cari amiche ed amici io ieri volevo fare un video perché ieri hanno fatto un sacco di programmi dato che era il cinquantesimo anniversario dallo sbarco sulla luna il 21 luglio 1969 2019 il cinquantesimo anniversario allunaggio Apollo 11 poi non ho potuto e allora oggi visto che non mi fa di fare un video editarlo e tutte queste cose qua faccio un radioprogramma spero che a tutte e tutti voi vi stia bene allora sono passati cinquant'anni dal 21 luglio 1969 che in pratica è oggi domenica 21 luglio 2019 eppure i programmi gli speciali cinquantesimo anni cinquanta anni dallo sbarco sulla luna hanno iniziato a farli ieri chissà perché quindi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio io avevo sette mesi quasi quasi sette mesi perché sono nato il 26 gennaio 1969 avevo sette mesi circa quando sbarcarono sulla luna poi ci furono altre due missioni io ho sempre creduto che il primo sbarco sulla luna l'avesse realizzato l'Apollo 13 invece sbarcò l'Apollo 11 e poi sbarcò l'Apollo 12 e poi intentarono una terza missione lunare che fracassò perché scoppiò uno dei due serbatori di ossigeno e dovessero ritornare sulla terra quelli della missione Apollo 13 e così purtroppo grazie a questo incidente e all'inizio della guerra in Vietnam la NASA fece soltanto un'altra missione perché avevano programmato 22 23 missioni Apollo e fecero soltanto un'altra missione che fu quella dell'Apollo 17 per chi complottista complottardo complottaro dice che l'uomo non è mai stato sulla luna ci fu un'altra missione dopo l'Apollo 11 cioè l'Apollo 12 che sbarcarono sulla luna e poi un'altra che invece fracassò quella dell'Apollo 13 quindi ci sarebbero state 22 missioni sulla luna poi se i sovietici i russi avrebbero potuto sbugiardare i nord americani lo avrebbero fatto di gusto invece evidentemente anche loro si riesero conto che le missioni furono realizzate ultimamente soprattutto da quando c'è internet tutti i vari confabulatori ipotizzano cose strane per esempio che la Terra è piatta che non si può arrivare sulla luna perché la Terra è piatta oppure che ecco appunto la teoria della Terra piatta non è eliocentrica cioè contraddice tutte le teorie scientifiche di Copernico, Galileo e Galilei la teoria della Terra piatta, dei terra piattisti è una teoria neotolemaica cioè Ptolomeo era uno scienziato dell'antichità le cui teorie ha abbracciato il dogmatismo inquisitoriale inquisitoriale della Chiesa Cattolica quindi voglio dire i terra piattisti sono oscurantisti medievalisti che vogliono ritornare nel Medioevo con le teorie antiche geocentriche mettendo la Terra al centro dell'universo e del Cosmo e del Sistema Solare tutti i pianeti girerebbero intorno alla Terra e quindi anche il Sole girerebbe intorno alla Terra e quindi non si potrebbe arrivare alla Luna perché la Terra è piatta e invece no se i russi potevano sbugiardare, smentire gli Stati Uniti lo facevano di gusto e poi un'altra cosa se veramente non si può arrivare alla Luna non ci avrebbero provato neanche i sovietici perché molti dicono al giorno d'oggi soprattutto i millenials gli adolescenti, i bambini che guardano cose preparate ad hoc ad arte sul web che la NASA, la CIA, l'FBI la polizia postale la DEA non vogliono che si sappia che la Terra è quadrata o comunque piatta perché non so per quale ragione ma che hanno messo degli agenti per cui nessuno può arrivare ai bordi esterni della Terra piatta che non sarebbe nient'altro che un anello o un quadrato di ghiacci enormi, alti magari 20 metri e che con il loro riflesso non permetterebbero di vedere al di là del bordo della Terra ma la Terra per quello non cascano gli oceani avrebbe dei confini quello che sembra il polo nord e il polo sud che sono invece delle barriere di ghiaccio e di montagne e quindi come spiegano i tropici l'equatore e i tropici il polo nord e il polo sud come dei miraggi dei riflessi di questi ghiacci alti cioè sono delle cose allucinanti e quindi vogliono smentire che ci sia questi complottardi questi terapiatisti che ci sia stato il viaggio sulla Luna la verità è un'altra ed è che così come facevano i giornalisti i cronisti della seconda guerra mondiale quando dovevano illustrare delle battaglie non è che sempre potevano filmare o volevano mostrare i filmati realizzati durante il combattimento sul campo di battaglia allora orchestravano delle simulazioni a dusso e consumo degli spettatori perché ancora durante la seconda guerra mondiale i televisori erano molto cari i tedeschi soprattutto nella Parigi occupata scoprono il potenziale propagandistico della televisione trasmettendo più di otto ore di programmazione fra telegiornali film telefilm però ancora in tutto il mondo c'erano i cinegiornali allora si preparavano delle simulazioni di battaglia di combattimento che poi venivano trasmessi al cinema perché non si voleva trasmettere quello che si filmava durante il vero combattimento oppure perché tecnicamente era impossibile allora è molto probabile che molte scene dell'allunaggio dell'Apollo 11 siano state prodotte in studio magari dallo stesso Kubrick o Alfred Hitchcock come molti hanno ipotizzato ma non che sia stato tutto un alloccaggio l'allunaggio l'allunaggio è successo veramente ma hanno riprodotto determinate scene che non potevano filmare di persona personalmente ecco questa è la mia teoria non tutte le scene sono originali qualcuna è riprodotta in studio ma l'allunaggio è successo veramente io non so voi cosa ne pensate e quindi vi invito a lasciare dei commentari sotto questo radioprogramma in spreaker ma anche dei commentari sotto quello che sarà il mio video in YouTube nel mio canale Saint & Chan e anche dei commentari quando sarà pubblicato un post in una mia pagina di Facebook lasciate dei commentari fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto tanto in Facebook come in YouTube come in spreaker invitate i vostri amici parenti e conoscenti a commentare questo mio radioprogramma e questo quello che sarà anche il video quando salverò la trasmissione in YouTube affinché anche altri possano commentare dire la loro e condividere l'episodio che sto trasmettendo indifferita affinché anche altre persone possano commentare che vi sembra la cosa? grazie grazie mille dell'entusiasmo e quindi come dire 50 anni ci separano da questo evento che è stato epocale molte rivoluzioni scientifiche purtroppo poi è venuta la guerra di Vietnam e la corsa armamentistica nucleare si è accentuata sempre di più è diventata sempre più gravosa perché avrebbero dovuto fare più missioni nello spazio e meno carriera nucleare e guerre sulla terra perché probabilmente il progresso scientifico non avrebbe avuto ostacoli e forse se si sarebbero realizzate più missioni spaziali nordamericane e sovietiche forse forse già per il 2000 2010 si sarebbe organizzato delle missioni spaziali su Marte addirittura con equipaggio umano invece purtroppo come Nixon disse dopo l'incidente adesso non ci saranno più missioni sulla luna perlomeno fino alla fine del vigesimo secolo del ventesimo secolo e infatti stiamo già nel 2019 sta finendo stiamo nel 2020 quindi nel ventunesimo secolo nell'anno ventesimo del ventunesimo secolo e ancora non si è riuscito a organizzare una missione sulla luna quindi quasi 50 anni 50 anni non quasi quasi 51 anni e non si è ritornati sulla luna quindi hanno vinto l'avversità che dire è triste la cosa però è la verità le ragioni economiche le ragioni politiche le ragioni belliche le ragioni geopolitiche ideologiche hanno vinto sulle necessità umane di espandersi oltre i confini dello scibile per migliorare la vita chissà anche quante scoperte ecosostenibili ed ecologiche si sarebbero potute realizzare ecco io non so quello che pensate tutte e tutti voi ma per me stanno così le cose la missione spaziale sulla luna è esistita lo sbarco sulla luna dell'Apollo 11 50 anni fa è esistito sono esistite anche le missioni seguenti e basta un cannocchiale di mediane o scarse capacità per osservare sulla faccia lunare le bandierine e il puntatore e il puntatore che identifica la posizione dell'allunaggio non sono state favole allora non lasciate di seguirmi in youtube in spreker e in facebook ed in instagram vi ringrazio adesso finiscono i 15 minuti mi raccomando commentate sotto questo video cosa ne pensate dategli like o dislike e condividete affinché anche altri possano esprimere il loro giudizio vorrei sapere la vostra opinione se credete che sia assistito l'allunaggio non sia assistito sia tutta una montatura cinematografica l'importante è avere un intercambio di idee civili poi accetto critiche e accetto giudizi negativi riguardo al tema trattato se voi volete commentate anche altri miei video in youtube e ditemi cosa ne pensate moltissime grazie grazie